Cosa quella mano che problemi sono sicuro che qua imparerò tantissimo vero Casi di te il ritmo sotto classe 99 dai almeno non è classe 666 mi dispiace ma abbiamo poco tempo Do per aggiungere sentenza la lavagna e qua c'è un libro vediamo che c'è qua Se matematica la mia materia preferita mamma mia 4 meno 5 meno 1 6 wow tu esisti Ma chi è sto pelato ma non lo vorrei mai avere come insegnante Ma io ho sentito che questo è un punto ex game voglio fare. Punto exit io a questo punto a mi da una moneta posso grazie Se se quindi se prendo più soldi posso uscire da scuola matematica uguale più matematica 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 Sì 1 meno 2 meno 1 2 meno 2 0 Ma lo fai apposta? 33 Io sento ogni porta che tu apri Mamma No Ha tirato fuori il bastone ragazzi Vuole pistarmi Dov'è? Dov'è? Sta arrivando Chi sei? Ah non posso correre Mi ha chiuso qui Oh mi ha messo in... Ah perché non devo correre nel corridoio e mi ha chiuso Chi sono questi? Sta arrivando ragazzi Sta arrivando No Maledetto Sta arrivando sta arrivando sta arrivando sta arrivando non posso uscire No No Non farmi del male Non fa Un fidget spinner Mi ha tagliato la gola con un fidget spinner Già la matematica era un incubo Adesso proprio Meno 1 4 più 1 a 5 Ehi cacchio Ehi Adesso l'ho fatto arrabbiare L'ho fatto arrabbiare L'ho fatto arrabbiare Lo sento quel bastone Mi fa l'alse di vino marrone Allora andiamo avanti E credo di aver capito l'obiettivo Ah Maledetto Mi avevi fatto prendere Prendiamolo Non so cosa sia Ho trovato un secchio Ma lui adesso è qua a destra Ho scoperto che con barra spazzatrice posso controllare se è alle mie spalle Vediamo Dov'è? Ok qua Coriamo Ho un altro test di matematica 0 più 5 5 Sento ogni porta che apri Cosa ho fatto? No No È più veloce È più veloce No Porca vacca No Non dirmi che c'è Là c'è un occhio gigante Oh santo cielo No 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 Devo scappare in qualche modo Adesso lui entrerà qui Devo prendere sta moneta No adesso entra qua Cacchio Come faccio No ragazzi questo gioco non ho idea Non ho idea è uscita La scopa di prima è uscita Mi ha buttato Eccolo arrivato Thomas il trenino Pronto a sculacciarmi il sederino Porca vacca Un'altra cosa che ho capito è che non devo correre nei corridoi Ma allora che devo fare posso rubare i compiti che magari lo calmo se faccio gli esercizi giusti Non so cosa devo fare Chi è quello? Chi è quello? Oh no è dietro Ok Coriamo coriamo ragazzi Cerchiamo Dugdub 8-3 Lasciami No 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 Perché No Ma c'è una pezza di erba che mi ha costretto a saltare la corda No Non correre Non entrare Non mangiare Non bere Muori insomma Non stavo correndo Scemo Vediamo chi è morto intanto Noi qui a scuola crediamo che ogni scuola bisogna di un buon bullo ecco perché è andato in isolamento Dov'è lui No ti prego è qua Non prenderò i tuoi schiaffi Non prenderò i tuoi schiaffi No 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 Questo è un bullo cosa mi fa il bullo Sono chiuso Oh no ti prego Ok I'll take that It's mine Ah mi ha rubato l'oggetto Pezzo di erba Tra un poco morirò Tra poco morirò se non mi fa uscire Ok Iiiiiiii Pezzo di erba Odio questa scuola vi prego squalificatemi Ok Non sto correndo Pezzo mamma mia che faccia da sedere da schiaffi Una faccia da schiaffi a sto qua Ok ogni volta che faccio matematica e recupero energia non so come A me sfinisce nella realtà È velocissimo Ti prego Don't kill me I need my life It's my life Na 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 It's my life Oh no c'è il bullo Non devo assolutamente andare lì Perché quello è un bullo infame Ok qua che c'è No No Quella scopa Ti butta via Oh porca vacca è velocissimo Porca vacca Nooo 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 Ok mi sono ricaricato alla fascia tua Alla fascia tua Voglio andare un attimo dal Nokia e voglio vedere cosa fa 25 No no grazie Costava 25 Ok allora adesso che siamo qua credo che possiamo usare un po' di soldi per comprare questa soda Ok 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 io ho due soda Perfetto Queste ci serviranno poi secondo me Per cacciarlo per rispedirlo all'inferno Mamma mia me la ricordo proprio a questa scuola uguale alla mia Poi ci sono delle chiavi Oh cazzeruola non sapevo Ah non puoi entrare qui Massimo Boldi vuole pestarmi No Massimo Boldi non farlo Massimo Massimo Ho risolto quasi tutti i tuoi test lasciami Lasciami ho risolto quasi tutti i tuoi test please Ok fammi prendere qua la barretta energetica almeno avrò energia se non arriva il bullo 8 8 3 Hello darkness my old friend Sto sbagliando again Prenderò tante sbarle Fanno male al sederino Me le becco tutte giuro Vedete non riesco più a farla matematica perché Fa male alla salute Andrò un po' veloce Mi va male Mi va male Ah E' velocissimo L'ho triggerato male L'ho triggerato male L'ho triggerato male No la p***a pezza di arma Sì via Nooo Aaaaaaah Ragazzi Concludiamo qua Ragazzi questo gioco è uno dei giochi più brutti, difficili, infami che abbia mai trovato Non riesco a trovare una persona che odio più di questo qua Veramente Tornata tutta Avevo intenzione di iscrivermi ad un corso di recupero di matematica ma... Mi becco Mi becco Mi becco